ciao ragazzi bentornati nel mio nuovo video oggi vi volevo proporre un video review sui prodotti eco se avevo già anticipato che volevo fare una review dei prodotti e oggi mi sono decisa a farlo questa non è la solita location non è la mia cucina né il mio bagno ma è semplicemente il mio terrazzo c'era più luce infatti se sentite rumore perché sono praticamente sul balcone fuori niente allora io di questa marca ho provato quattro prodotti sono prodotti bio reperibili a tigotà costano poco e diciamo che piacciono a parecchie persone io sono un po' mi ci sto trovando bene con questi prodotti però diciamo che ce ne sono di meglio allora partiamo dai prodotti che mi piacciono di più allora ho comprato il detergente intimo della ecos con estratto di timo antibatterico questo qua sono sono 300 350 ml 12 mesi e di pao vegan ok certificato icea non potete ben vedere l'ho utilizzato abbastanza visto che lo utilizza anche il mio ragazzo questo detergente intimo mi piace molto perché molto delicato fa pochissima schiuma e non crea soprattutto irritazioni io quando sono nel mio periodo ho sempre quasi sempre l'irritazione date dall'assorbente e il caldo anche se ovviamente per questione igienica le assorbente si cambiano più spesso durante la giornata quando lo utilizzo mi ci trovo veramente bene perché anche quando sono irritata non mi va a creare un ulteriore bruciore prurito anzi è molto molto delicato e prezzo infatti il fatto che all'interno c'è un antibatterico naturale che un antibatterico nel detergente intimo è sempre molto importante perché comunque tiene la zona molto pulita e cerca di proteggerla a me mi sta piacendo tanto sicuramente è un prodotto che consiglio per tutti tant'è che lo utilizza anche il mio ragazzo e sappiamo che a volte gli uomini hanno le loro problematiche non sono così delicati come le donne però ci sono anche quelli che ogni tanto hanno delle problematiche hanno bisogno di un detergente estremamente delicato ma efficace questo prodotto sicuramente è adatto per le donne ma anche per gli uomini perché comunque la profumazione la solita profumazione che hanno i prodotti è così molto uguale quasi tutto uguale in tutti i prodotti quindi non può dar fastidio a un uomo che ne sono un profumo era di rosa o di vaniglia così e comunque sono molto molto delicati questi detergenti mi sta piacendo tantissimo e ve lo sta consiglio un altro prodotto che mi piace molto che piace quasi a tutti non ho ancora sentito dei pareri discordanti su questo prodotto il balsamo per i capelli con succo di aloe vera biologico questa è la mini taglia sono 75 ml certificato ICEA e bio e questa è la seconda mini taglia che utilizzo devo dire che è un ottimo balsamo per i capelli perché comunque va a districare istantaneamente i capelli quindi se avete tantissimi nodi se avete i capelli ricci o come mai capelli lunghi che però durante il lavaggio per forza di cose si annodano è un ottimo balsamo di certo non vi aspettate una grande idratazione un grande nutrimento perché comunque ricordiamo che è un balsamo il balsamo deve solo districare poi ci sono i balsami di high cost che comunque hanno anche un'azione nutriente o idratante sicuramente non è questo balsamo ma se cercate un balsamo che vi districa bene i capelli e vi prepara i capelli per un altro trattamento successivo però che sono belli pettinati belli docili disciplinati questo è un ottimo balsamo io mi sto veramente trovando bene lo utilizzo lo alterno con l'altro balsamo che sto utilizzando quello di alchemilla mi sta piacendo molto e ve lo consiglio io penso che è adatto a tutti i tipi di capelli tutti quanti perché alla fine è un balsamo e non deve fungere ad altro buonissimo un altro prodotto che sto utilizzando sempre alternando con un altro shampoo è questo qua shampoo lavaggio frequenti con estratto biologico di avena ecco lo shampoo si questa è una mini Italia perché io lo shampoo lo diluisco quindi mi dura tantissimo questo shampoo mi ha all'inizio mi ha lasciato un po' perplessa io sto utilizzando da qualche mese i shampoo bio e quindi sono consapevole che alcuni shampoo non fanno la sfuma è ok questo praticamente non fa schiuma e sembra che non vi lava i capelli anzi sembra che vi va ad aggredire veramente i capelli va a sgrassare troppo tant'è che quando sciacquate i capelli oltre alla sensazione che non li avete lavati crea attrito tra i capelli proprio quando li toccate li sentite tipo super sgrassati disidratati proprio cioè bruttissimi al tatto veramente vi sembra che avete fatto una grande stronzata ad usare questo shampoo che vi va ad aggredire veramente la cute e che pensate di aver bisogno di applicare un balsamo anche sulla cute perché tanto tanto crea attrito perché non sentite per niente il capello idratato o lavato o pulito da proprio questa sensazione di capello aggredito infatti dopo che l'ho utilizzato ho detto mamma mia che i capelli che mi verranno fuori solo che io poi quel giorno l'ho utilizzato la prima volta dopo dovevo andare al lavoro quindi rifare un altro shampoo con un altro shampoo mi scocciava un po allora ho messo il balsamo ho detto quello che succede succede al massimo quando torno a casa li rilavo invece la vera rivelazione è stata che quando il capello si asciuga diventa estremamente morbido e luminoso quindi è un buonissimo shampoo chi lo vuole provare deve essere consapevole che al primo lavaggio quando sono ancora bagnati sembrano super aggrediti super stressati super sgrassati e vi sembrerà di aver fatto una stronzata poi quando il capello si asciuga diventa veramente voluminoso vaporoso luminoso ed è la cute veramente pulita perché pulisce veramente bene pulisce veramente tanto la cute non irrita non provoca forfora non secca assolutamente io lo definirei un balsamo è un balsamo sì uno shampoo neutro perché alla fine non va a trattare non ha dei trattamenti specifici all'interno ma va semplicemente lavare bene la cute senza aggredirla e rendere i capelli veramente puliti e soffici chi vuole approcciarsi a questo mondo biologico ve lo consiglio però come ho detto prima siete consapevoli che all'inizio vi sembrerà che non è adatto al vostro tipo di capelli e invece è super adattissimo l'unica cosa che non mi sento di consigliarlo utilizzare alle persone con i capelli ricci perché questo ve li annoda i capelli ma ve li annoda un sacco quindi dovete per forza per ricorrere a un balsamo se me li annoda me che ho i capelli lunghi comunque non ho tutti questi nodi già di mio i capelli ricci secondo me li annoda un botto però un buon balsamo e poi all'asciugatura vedrete che alla fine è un buon prodotto l'ultimo prodotto che vi mostro che non mi piace vi ho dato tantissime possibilità ma non mi piace è questa maschera per capelli con idrolizzato di semi di moringa certificato ICE 500 ml biologico un bel boccettoni il profumo è un po' si è lo stesso profumo degli altri prodotti solo un po' più intenso io come potete vedere l'ho stra utilizzata perché comunque era bello pieno la consistenza è di un burro cioè un burro per i capelli non scende rimane lì fermo è proprio bello cicciottoso infatti ne basta veramente poco allora io ho sentito tante ragazze alle quali è piaciuto molto perché va a nutrire la fibra del capello va a nutrire i capelli secchi tutte le recensioni positive io parlo per la mia esperienza allora io avevo i capelli trattati quindi tinta ero bionda ho passato un periodo che me li coloravo neri rossi, bionda, di tutto e di più poi un giorno visto che i miei capelli non avevano più forma avevo deciso di dare un bel taglio infatti avevo lasciato la ricrescita che arrivasse fin qua e poi li ho tagliati questo è successo due anni fa in giro di due anni mi sono cresciuti i miei capelli questo è il mio colore naturale però comunque ho le punte perché praticamente dove avevo lasciato la ricrescita del capello sulle punte è rimasto un po' di biondo poco poco infatti ho le punte bionde vedete quindi sulle mie punte per colpa di questo biondo che tra l'altro fra un po' andrò a tagliare diventano spesso aridi aridi molto molto secchi hanno bisogno di un trattamento che va veramente a nutrire a dare idratazione infatti io non mi aspetto che una maschera faccio tutto questo però lo alterno faccio l'impaccio pre shampoo con gli oli quindi per un nutrimento ci pensa l'olio e vari olietti ed ho questa maschera non mi aspettavo chissà che cosa però mi aspettavo almeno che mi andasse a nutrire i capelli che mi andasse ad idratare i capelli perchè qua infatti è scritto scusa infatti c'è scritto un supporto naturale per la protezione della cura dei capelli soprattutto quelli danneggiati fortemente stressati da agenti atmosferici e dall'utilizzo di phone e tinture la sua azione è riparatrice e idratante che è un'azione super veloce che va in profondità del capello io questa cosa non l'ho vista l'ho utilizzata più volte l'unica cosa che ho notato positiva è che mi andava comunque ad ammorbidire tantissimo i capelli e farli diventare luminosi però a livello idratante riparatore io non ho visto assolutamente niente anzi mi andava ad annodare le mie punte non so perchè proprio le punte mi creava dei piccoli nodini e le mie punte rimanevano comunque secche non mi aspettavo che me le idratasse subito così in una volta le punte super rigenerate ma almeno un pochino pochino sì perchè poco alla volta pian pianino si idrattano benissimo cioè si riparano pian pianino con i loro tempi questo io lo sto utilizzando da un mesetto non mi ha fatto nulla niente di niente nessuna idratazione nessuna riparazione le mie punte come sono rimaste secche ed aride sono rimaste così anche dopo questo utilizzo di maschera quindi chi ha i capelli secchi e vuole acquistare questa maschera per lo scopo di idratare i capelli non va assolutamente bene perchè una maschera deve essere potente per andare nel cuore del capello è vero io ho i capelli lunghi però ho i capelli fini e tanti quindi ho bisogno di un prodotto che vada dritto nel cuore del capello però non è che ci vuole una mappa da arrivarci perchè alla fine sono fini quindi per il mio capello non va assolutamente bene se tu che mi stai guardando hai i capelli normali o comunque voluminosi e corposi questa maschera non fa per te perchè non fa assolutamente nulla di quello che dice l'unica cosa è che li fa diventare morbidi e lucenti punto quindi per me questo prodotto non mi piace non lo ricomprerò non lo consiglio e lo smaltirò utilizzandolo nei miei impacchi per shampoo basta niente ragazzi io ho finito con questo video spero che vi sia piaciuto se avete già provato questi prodotti scrivetemelo giù nell'info box ricordatevi di iscrivermi al mio canale ci vediamo alla prossima vi mando un grande bacione ci vediamo ciao